Ehi no! Vai! Vabbè, deve essere venuto un terzo! Vai arrivati senza mani! Vai così! Vai così! E quei dieci Ma cos'è Ma why Salve a tutti amici e amiche Io sono Luke e te bentornati sul mio canale Oggi siamo insieme al lupo e l'os Su The Last Man Standing C'è un cocco Che cacchio Trovate un pompa Allora questo è tipo survival games È un survival games Con le armi Ragazzi c'è gente che spara via Raga verso l'infinito Da questa parte seguitemi Dobbiamo andare verso il centro Ragazzi c'è gente che spara via Ma non lo so io Ma non lo so Bro sopra di te guarda Raga non ci andate Raga non ci andate pericoloso Oh mio dio Io ci entro No no prima io Prima io Tu non hai capito io ci entro No non si può entrare no Peccato Fine di una storia triste Dai raga andiamo verso il centro Prendiamoci armi e munizioni Io prendo gli scudi Ok Mkv Un mirino mi serve Allora Dai dai andiamo andiamo Ah ok bene meglio Più armi per me Oh un fiscile Vaffanculo Oh c'è una uzi Allora Sì c'è un mirino Guarda Non ci può passare C'ho una pistola Ma non mira un cazzo Vai Mira 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 Ci arrivo prima io un fucile raga raga l'alcoso c'è una persona lì raga andiamo mi piace inculano la roba no ma c'è sicurato tutto in malabra ha preso tutto sicuro ma che cazzo bravo ma che cacchio no cosa è successo ci hanno arati leggermente proprio ma guarda è tutto currazzato currazzato ma c'è l'armatura cos'è si figlio del putà e poi muoiono andiamo dalla centrale del pompaggio la cosa è una premonizione oggi arriviamo primi una pistola mia munizioni raga io guido l'ambulanza no è sterda vabbè io c'ho la pistola medicinali droghe raga ci sono dei tizi dove fra sta venendo uno da te l'altro l'ho visto morire raga sto venendo da te io c'ho i pugnetti io c'ho dieci di vita c'è il tipo con la pistola no 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 c'è il tipo aiuto 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 raga fra tieni tieni la devi che lo uccidi lupo oh per non sparare a me ragazzi oggi arriviamo primi l'ho detto io cercalo di uccidere raga andiamo verso quella casa questa quella casa è la nostra salvezza dobbiamo trovare le armi pensate ai piani di sotto raga ho trovato un'arma o anche un mitragliatore potente raga ho trovato io ho trovato un'altra arma si il muro io ho trovato una macchina mica sei importante sei importante raga ma ci siamo soltanto noi tre vero no che dobbiamo stare attenti ai rumori perché di solito ci può essere anche altra gente ok io c'ho due armi però se vieni anch'io c'ho due armi una granata che raga muoviamoci che si sta a prendere di stringere la barriera oh madonna siamo appena arrivati eh ma secondo te la barriera sta aspettata ma donna quante armi ci sono qua io non ne ho manco uno scoop ah ma pure 118 118 118 118 ok entriamo un attimo da questa parte magari troviamo qualcosa uno shield no raga qua c'è un vector anzi lo prendo io il vector il vector è migliore ma c'è l'abbia quanta cattive c'è messo su quelle parole poi c'è un pompa raga ho trovato raga ho trovato uno spaz oh mio dio sono spastico raga io ho trovato un medico raga c'è uno spaz qualcuno lo vuole che c'è uno spaz lo spaz lo volete se non lo prendo io credo che c'è è un fucile a pompa no prendi io tu qua c'è un fucile come secondaria e andiamo raga andiamo raga che è la barriera perché c'è una motosega eh ah no sembrava una motosega sembrava una motosega sembrava una motosega no è il bizon io c'è il bizon e il Thor good 118 118 aia mi sparano mi sparano dove? dove sparano? non lo so non lo so non l'ho visto lo trova ah cazzo cazzo allora eh vatti aia 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 oh eccolo dove bro raga copritevi copritevi ok 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 abbiamo uno studio Ghibli abbiamo uno studio Ghibli contro minchia l'ho preso dai 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 fuoco che l'ho preso fuoco che è quasi morto dai ragazzi non lo vedo raga continuamo a pressare ok gli avevo distrutto la barriera eh sono state a destra eccoli no sto ricaricando adesso lupo curati per favore dove sono? ah cazzo 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 oh 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 sono agilissimi dove vanno? continuano a girare questi dove sono? mi sa che ci vogliano girare attenti io guardo al lato destro non mi piace cazzo troppo silenzio cazzo no Luke stai coperto eh ma io sto cercando di capire dove sono eccolo dove dove raga la barriera la barriera adesso stanno venendo verso verranno sicuramente verso di noi quindi cerchiamo di 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 pressarli se avessi una granata si una granata raga lancio una granata come ci usano? ho lanciato avarissimo nooo nooo sono morto prendi il medikit bro c'è il medikit lì a fianco aspetta aspetta c'è ancora tempo per rianimarli Luke sta arrivando a te oh oh doppia no mi ha ucciso libro uccidilo uccidilo nooo nooo ma c'è una 600 di armature nooo peccato peccato vabbè dai peccato però diciassettesimi diciassettesimi però ce la siamo cavata ragazzi micchia ragazzi non so buono a sti giochi ehm però comunque come gioco mi piace ovviamente ragazzi mi raccomando scrivete nei commenti se ne volete altri lasciate like commentate iscrivetevi al canale di Luke eh si di Lupo che ovviamente troverete nella descrizione è nulla ragazzi e che cazzo di auto stiti auto spammi è nulla devo chiudere velocemente perchè basta perchè basta registrare per oggi li ho registrati assai di roba e e lol e ciao a tutti e cocco a tutti ma scusa eh scusa aspetta aspetta eh non è family friend in questo video non va bene a te un cocco a tutti ragazzi e ci vediamo al prossimo cocco video ciao ragazzi ciao a tutti